musica ok benvenuti, ecco la lezione di stasera cercheremo di vedere come fare o implementare in script un problema semplice ma per far capire come si può strutturare una macchina stati in modo da realizzare un problema appena appena un po' più complesso prenderemo in considerazione questo giochino, questo problema di Monty Hold vedete, questo problema che è un problema statistico e che permette di poter selezionare insomma se lo vedete sulla pagina in italiano di wikipedia ce lo spiega bene è un gioco del 1990 un problema del 1990 in cui in un gioco a premi si chiede dietro tre porte ci sono nascoste c'è un premio di valore un'automobile ma due capre dietro le altre due porte quindi si chiede al giocatore di scegliere una porta per esempio il numero 1 dopodiché la si tiene chiusa e il conduttore del gioco che sa cosa si nasconde dietro tutte le altre porte ne apre un'altra dove sa che c'è sicuramente una capra a questo punto chiede ma vuoi tenerti la porta che hai scelto oppure vuoi cambiare la scelta a seconda di come se si tiene o se si cambia si vede un po' se si trova la macchina oppure no ora al di là del problema statistico che è pure interessante che non è oggetto di questo video vediamo invece come implementarlo in lsl e vediamo anche un aiutino quindi scarichiamo invece di fare quando si lavora con gli algoritmi in Descripting Second Life OpenSim può essere conveniente lavorarci anche con un simulatore di Descripting che è questo lsl editor community edition che è un filetto che una volta lanciato permette di avere un editor quindi un IDE come se fosse un programma basic java quello che è in cui noi possiamo costruire degli script quindi possiamo fare file new script e possiamo costruirci vedete questo script e possiamo anche eseguirlo nel senso che abbiamo un programmino debug facciamo lo start del programma i default e quando adesso lo mettiamo un attimino ecco l'ha eseguito vedete che fa vedere lo state entry siamo entrati in state entry e poi posso anche simulare le varie operazioni con il mio programmino quindi avendo fatto lo state entry lui dice hello avatar e poi se lo tocco touch start lui dice touched che è esattamente quello che gli dice di fare il mio script ora noi concentriamoci un attimo sul meccanismo di Monty Hall e lo facciamo cerchiamo di farlo attraverso uno schema quindi prendiamo un foglio di carta io l'ho fatto con questo sistema elettronico e vediamo un attimo di impostare come può essere strutturato da un computer un programma qualunque che lo risolva allora vedremo che un programma che lo risolve è strutturato a step a passi allora il primo passo è quello in cui io metto la macchina cioè il dono il valore delle capre dietro le porte quindi decido come sono messe gli oggetti dietro le mie porte lo chiamo P0 vedete che ho P0 qua e lo chiamo P0 poi decido dopo questo chiedo al giocatore di scegliere una porta questo passo lo chiamo P1 dopodiché ancora una volta che lo ha scelto mostro l'altra porta dove c'è la capra questo lo chiamo passo P2 e al passo P3 gli chiedo effettivamente se vuole cambiare e al passo P4 valuto il risultato quindi sono quattro sequenze in cui nella prima dispongo quindi nella fase di inizializzazione poi chiedo domando in qualche modo con un input quale porta è scelto faccio un po' di elaborazione decido dove sta la capra cioè decido quale capra presentare la mostro e poi quando mi dice dico vabbè vuoi cambiare e quindi faccio questa operazione ora tutta questa sequenza la possiamo vedere nel nostro programmino che qui ho impostato allora vedete che io vado io l'ho chiamato capra perché sono le capre andiamo sullo script ho qui vedete che ho praticamente realizzato qua quindi togliamo un po' la finestrina e vediamo un po' che qui ho realizzato un commento all'inizio del mio programma con barra barra dove ho scritto il passo P0 è quello in cui bisogna disporre due capre e una macchina casualmente al passo P1 quando ricevo un tocco l'oggetto chiede di scegliere una porta cita per chosen quindi la porta scelta al P2 quindi al momento in cui lui mi ha scelto effettivamente perché al tocco io se l'ho chiesto e al P2 effettivamente ricevo la scelta quindi il programma a quel punto lì apre la porta con una capra fra le due residue e poi al momento P3 quando tocco vabbè qui si ferma si potrebbe anche fare tutto insieme ma io ho spezzato per semplicità al tocco il programma chiede se si vuole cambiare oppure no e a questo punto alla scelta il programma dice se hai vinto oppure no allora notate che io qui ho dato un nome agli stati quindi abbiamo P0 P1 P2 P3 P4 e ho anche detto quando scattano gli stati quindi il P0 scatta al momento del reset il P1 scatta quando io tocco quindi quando lo tocco allora lui effettivamente decide capisce che fa questa cosa quindi il senso di in che punto sono nell'algoritmo è rappresentato da questo stato che si può fare numerico si può fare come vuole tanto è un valore simbolico avendolo messo in questo modo diventa particolarmente semplice da capire quindi io inizio con lo stato P0 quindi vedete prendo una variabile di stato string che la chiamo stato e il cui valore è P0 inizialmente dopodiché mi preparo dei posti dove metterò la porta dove sta la macchina la porta che apro per far vedere la capra e poi faccio vedere la scelta che ha fatto quindi qui mi memorizzo la scelta che ha fatto la persona e in più c'è un handle per gestire in maniera effettiva le risorse della macchina quindi a questo punto abbiamo il nostro programma il quale parte con uno stato che è questo state entry in questo state entry vabbè qui dice dispone gli oggetti è una specie di commento questo possiamo anche non dispone nel senso dispone gli oggetti perché è lo script che dispone gli oggetti e scegliamo dove sta la macchina allora la macchina lo facciamo in questo modo quindi scegliamo un numero casuale fra 1 e 3 con questo algoritmo dopodiché vado nello stato più 1 qui nello stato più 1 cosa vuol dire che se a questo punto lo script qualcuno lo tocca vado nel touch start mi salvo chi ha toccato perché poi servirà e poi se sono nello stato più 1 quindi if stato uguale uguale più 1 allora vuol dire che devo far partire un dialogo e in questo dialogo ci metto scegli una porta quindi un 2 e 3 sul canale meno 1 che è stato quello con l'handle e poi vado nello stato più 2 quindi mi muovo nello stato più 2 questo è importante perché vuol dire che questo touch start può rispondere in qualunque stato si è perché lui non sa quali sono i stati dei miei programmi ma io lo posso separare quindi rispondere ai singoli stati semplicemente anteponendogli un if quindi nel momento in cui ero nello stato più 1 e gli ho messo il dialogo vado nello stato più 2 e lo stato più 2 è un dialogo con cui si va avanti in due modi o quando scade questo timer oppure quando la persona risponde l'avatar risponde a questo dialogo quando risponde risponde al listen quindi al listen cosa faccio? visto che ha risposto sicuramente a un menu tolgo l'handle del menu tolgo anche il timer il timer ci serviva per cancellare il menu se non rispondeva e poi mi domando sono veramente nello stato P2 che era quello in cui si aspettava la porta scelta bene se lo sono cosa faccio? prendo la scelta che ha fatto la indico dopodiché uso un algoritmo qualunque per cui ho fatto semplicemente un ciclo per cui cerca di mettere la capra in un posto in cui non c'era la macchina quindi cerca una capra cioè una posizione quindi fra 1 2 e 3 in cui non c'è già la capra la macchina e dopodiché si dice una capra si trova nella porta che ha appena trovato adesso lui dice tocca per andare a vediamolo meglio per andare avanti ok e ci mettiamo nello stato P3 allora lo stato P3 vuol dire che l'ho messo nello stato P3 quindi è il touch che mi risponde quando siamo nello stato P3 ma perché? perché gli ho messo l'if qua quindi se lui a questo punto mi tocca non scatterà più quello di prima l'evento di prima il dialogo ma mi scatterà questo nuovo evento P3 questo nuovo evento P3 cosa dice? bene allora toglie no mette un listener nuovo perché dice vuoi cambiare la porta che hai scelto e poi gli dice tengo o cambio e poi passa in uno stato P4 in uno stato P4 adesso abbiamo capito che c'è un c'è un giro fra touch e listen allora nella listen mi aspetterò che ci sia un if stato uguale P4 allora nello stato uguale P4 mi leggo il numero che lui ha digitato sul menu se questo coincide con la porta della macchina gli dico hai vinto altrimenti gli dico hai perso e poi resetta lo script qui manca ancora lo facciamo insieme così vi faccio vedere l'utilità di questo editor che secondo me è notabile ok allora dicevamo manca l'evento timer che era quello che scattava vedete che qui uno dei vantaggi di questo lsl editor è che posso mi fa l'auto completion mi dà la documentazione in inglese ma è molto facilitato quindi timer quindi potete fare team team e poi invio e lui mi compila automaticamente con tutti i parametri e se io volevo fare il listen che è questo compilando vedete che mi dà tutti gli elementi il che è sempre una cosa molto graziosa allora timer il timer abbiamo detto che quando scatto il timer deve rilasciare tutte gli handle eccolo qua mettiamo che rilascia gli handle e poi fa un ll reset script vedete che lo fa automaticamente quindi riparte da capo ora vi faccio vedere un esempio così qui vedete anche l'interessantissima cosa del debug di questo programma e posso fare debug e fare lo start per fare il debug del mio programma ora per cui per debug si intende in realtà una cosa semplificata nel senso che lui fa vedere tutte le funzioni chiamate ad esempio qui vedete che ha chiamato la frand d3 che gli ha tornato 007 quindi lui in realtà ha disposto già ha trovato che la la macchina l'ha messa in prima posizione qui dice appunto dispone gli oggetti nel momento in cui ne facciamo touch start vedete che ha eseguito il nostro programmino ha fatto quindi un listen sul meno 1 ha impostato un timer event e ha fatto un dialog scegli una porta scegli una porta noi possiamo diciamo noi non sappiamo ma in questo caso la macchina è proprio nella porta 1 ma comunque facciamo 1 e lui dice ho scelto 1 vedete lui a questo punto ci fa un altro frand per posizionare una capra e vedete che la mette nella porta 3 cioè 2 poi diventa 3 e va bene quindi la fa solo una volta e quindi lui dice una capra si trova nella porta 3 e tocca per andare avanti io tocco touch start e a quel punto lui mi manda vedete il dialogo vuoi cambiare la porta che hai scelto tengo cambio e gli dico porta che hai scelto tengo quindi tengo nel momento in cui ho detto tengo ah lui ha detto che ho perso però qui forse c'è un vediamo ok rietticoci il nostro script allora quando siamo nello stato P4 se effettivamente ha cliccato str cambio in questo caso dobbiamo cambiarlo quindi dobbiamo fare un piccolo algoritmino che permetta di selezionare la porta che non era né quella scelta prima né quella della porta della capra e questo lo facciamo semplicemente facendo oscillare i da 1 a 3 lo si fa in questo modo ad esempio pure i minore uguale 3 e poi il primo i in cui che non è uguale alla scelta oppure che non è uguale alla porta capra se questo i non è né la scelta né la porta capra allora l'ha cambiata è uguale a i forse ci va l'e commerciale cioè l'end cioè contestualmente non è nell'uno nell'altro ok quindi così mi piace già di più allora nel momento in cui abbiamo trovato un cambiato fatto così la nuova scelta è quella cambiata e poi si va a vedere se la porta scelta è quella giusta allora proviamo a fare il debug di questo oggetto quindi facciamo uno start un F5 quindi lui mette la macchina nella porta 3 quindi lo tocco e io vabbè non lo so che nella porta 3 supponiamo che io scelga senza saperlo una vabbè la porta 3 facciamo la prima cosa che per caso fortuito è proprio lei ora a questo punto nel momento in cui lui mi dice che in 2 c'è una capra io tocco e lui mi dice cosa faccio la tengo allora se la tengo vedete che ho vinto allora lui adesso mi ha ridistribuito gli oggetti e la macchina a questo punto è una porta 2 faccio touch start quindi non lo so ancora comunque scelgo in questo caso una porta una porta diversa lui mi fa vedere che è nella porta 1 ora cliccando con touch io posso fare cambio e quindi cambio vuol dire che dovrei prendere la 2 quindi quella dove c'è veramente la macchina quindi dovrei vincere e andiamo effettivamente ho vinto e quindi in questo modo vedete che sono riuscito a fare questa simulazione in questo modo ora si tratta semplicemente di prendere questo script se volete e di riprovarlo nei vostri mondi virtuali preferiti quindi andate su su craft ad esempio vedete che prima ho fatto una copia di quello script che ho fatto eccolo qua costruiamo il nostro oggettino gli mettiamo nel suo contenuto uno script in cui ci piazziamo quello che abbiamo costruito fuori con copia e incolla ok vedete che fa esattamente è quello che ha fatto fuori facciamo click lui mi dice scegli una porta uno poi mi dice una porta è tre e poi decido cambio e poi ho vinto vedete qua infatti una delle caratteristiche del giochino di Monty Hull è che se si cambia si hanno forti probabilità di azzeccare di trovare veramente la macchina direi che questo è abbastanza tutto ah beh ovviamente la script adesso così non è solo il motore poi per farlo in una realtà 3D bisognerebbe fargli comandare proprio delle porte che si aprono ma questo è il meno è un semplice invio di una rotazione e credo che la cosa più complicata sia proprio nel produrre lo script allora con questo vi saluto buona serata